Amici di Youtube, ben trovati a Marco Liguori, triste lutto per il mondo del cinema, la popolare attrice è mancata nelle scorse ore, prima di saperne di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, il mondo del cinema è sotto shock per la triste quanto inaspettata perdita della grande attrice, un'attrice molto popolare e molto talentuosa, un'attrice che nella sua lunga carriera ha preso parte ad oltre 100 film e serie tv, un'attrice pluridecorata, una vera e propria istituzione, soprattutto nei paesi asiatici, il secondo di Marco Liguori con grande dispiacere annuncia il decesso dell'attrice filippina Jacqueline Jones che come detto ha preso parte a innumerevoli film e serie tv, ne ricordiamo soltanto alcuni come Zorro e Ma Rosa, nel 2016 è stata insegnata del premio del Festival di Cannes come migliore attrice per questo e per molto altro, l'attrice Jacqueline Jones era una vera e propria autorità nei paesi asiatici, il secondo nome di Marco Liguori con immenso dispiacere. Ricorda l'attrice Jacqueline Jones mancata 60 anni a seguito di un infarto e amici di youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.